Amici buonasera e benvenuti a questo appuntamento con le previsioni gratuite da giocare domani sabato 11 dicembre 2021. Prima però facciamo un piccolo aggiornamento su ciò che è successo giovedì 9 dicembre. 9 dicembre abbiamo preso nel 10 e l'8 serale l'82. Peccato che non sia uscito l'oro altrimenti sarebbe stata una vincita un po' più gaiarda. Invece ancora più gaiarda sarebbe stata la vincita con questa quaterna in cinquina. Il 3, il 10, l'82 e l'85. Purtroppo senza ori si è vinto soltanto 15 volte la costa. Quest'altra vincita invece è con lo scontrito giocato con altri numeri preso 5 su 9. Quest'altra amica ha unito i suoi 4 numeri ai miei 5 numeri e ha fatto una vincita di 10 euro prendendo appunto 5 numeretti su 9. Perfetto finite le testimonianze di vincita veniamo alle previsioni consigliate per domani sulle ruota di Venezia. Ruota ancora del simbolotto per tutto il mese di dicembre. Abbiamo l'ambata principale su Venezia che consiglio il 58 e poi abbiamo due terni uno su Venezia nazionale 5 7 58 e uno soltanto sulla ruota di Venezia 8 58 88 ovviamente entrambi per ambo e per terno. Il 5 benché sia un sortito ieri io penso che questo 5 rifaccia capolino sulla ruota di Venezia se non quella di nazionale. Pertanto sulla ruota di Venezia consiglio di fare direttamente una sestina per andare a prendere il terno per andare a prendere il terno in cinquina perché il 58 è in entrambi i terni pertanto 5 7 8 58 e 88. Passiamo invece a un'altra previsione per Palermo. Questa su Palermo ieri è uscito l'ambetto 26 40 noi avevamo 20 27 40 invece è uscito 26 40 però l'ambata 20 ancora non è sortita pertanto finché non sortisce l'ambata 20 su Palermo il 27 lo reputo lo reputo un buon abbinamento sia per ambo sia per ambetto con il 20 e poi l'abbinamento 82 l'abbinamento 82 prende il posto del 40 che è sortito ieri 20 27 82 per ambo e terno vediamo se Babbo Natale come nella fotografia ci può portare questo belletto terno per Natale. Invece per quanto riguarda il 10 e l'8 serale l'ambata 82 ancora la sto aspettando come numero oro perché l'82 ancora non si è fatta viva sulla ruota di Bari e finché non sortisce sulla ruota di Bari entro il 18 dicembre 2021 in primo e seconda posizione la reputo ancora valida pertanto se vuoi giocare soltanto l'82 come numero oro dovesse uscire prenderesti 63 volte la vostra giocata invece per chi può fare una cinquina consiglio il 3 il 37 il 46 l'82 e l'85 benché alcuni numeri come il 3 il 82 l'85 siano sortiti ieri per me sono ancora sono ancora validi fino al 18 dicembre 2021 e come ori l'82 e il 37 questo è tutto io vi auguro un buon fine settimana e a risentirci speriamo domani con una bella visita buon sabato a tutti ciao ciao